Il corteggiamento, io ammetto di essere un corteggiatore, a me piace molto, ma il corteggiamento è dare e avere, perché se faccio tutto da solo ma sto a giocare da solo, questo è, quindi boh basta, ma di che stiamo a parlare? Sì, ma innanzitutto dico basta anch'io Maria perché ci sono rimasta malissimo, perché mi ha chiusato, tu hai questa faccia, sei moscia, ho anche detto non mi sembra che con le altre ragazze hai avuto queste sterne insomma di alto contenuto, chissà quale divertimento, tu ti stai accanendo con me perché comunque si è presentata anche l'occasione di Armando, quindi secondo me lui si è focalizzato su questo fatto, cioè che io non scendo a parlare con lui, e poi dici una cosa per farti, per conoscerci, secondo me no. Beh voglio dire, allora durante l'esterna è stato detto. Ma poi prendi, te ne vai così, cioè io. Durante l'esterna mi è stato detto, tu stai qua per i teatrini, no? Sì, già lo. Te la ricordi sta cosa? Sì, sì. Perfetto, ok, a me sta cosa mi ha fatto impazzire, perché se stavi qua, se io stavo qua per i teatrini, allora tu lo capivi, se tu veramente pensavi sta cosa, mi dicevi sei un pezzo di... E ti alzavi e te ne andavi, perché i teatrini non li faccio. Uno, seconda opzione, se pensavi che stavi a fantadrino e sei rimasta a portica il teatrino va bene, pure a te. Assolutamente no, perché sono stata la prima, sono stata Gianluca.